Abbiamo già detto tantissime volte, meravigliosi figli del Tao, che i taoisti hanno una predilezione particolare per i paradossi. Tante volte nelle storie taoiste ritroviamo proprio concetti paradossali che in qualche modo devono servire a spingere la nostra interiorità a smettere di credere che quello che la mente pensa sia vero e aprirsi alla verità del cielo, direbbe Chuanzo, della verità della manifestazione dell'esistenza. Forse uno dei paradossi più importanti che i taoistici propongono, e forse quello essenziale e proprio in assoluto, è il paradosso del vuoto. Perché i taoisti, a differenza del nostro sentire comune, a differenza praticamente di quasi tutti i popoli del mondo, hanno capito che alla radice, alla base di tutto quanto, la cosa più importante di tutte doveva essere vuota. E questo è già un paradosso, questa è già una cosa assurda. Come fa a essere importante qualche cosa di vuoto? Noi siamo abituati a ritenere importanti delle cose. E siccome noi leggiamo il vuoto come invece l'assenza di quelle cose, lo vedremo bene dopo, beh, come facciamo a mettere l'assenza delle cose come pilastro fondamentale dell'esistenza? E quindi ho pensato che oggi potesse essere interessante andare un po' ad approfondire maggiormente questo concetto relativo al vuoto. Come fa l'uoto a essere così importante per i taoisti? Beh, partiamo dalle citazioni. Andiamo a prenderci, per esempio, il Tao Te Ching, testo attribuito a Lao Tzu, testo fondamentale del taoismo, andiamo a vedere alcuni esempi di quando Lao Tzu nel testo utilizza la parola vuoto. Forse la citazione da cui partire, la citazione più importante, è quella del capitolo 9 del Tao Te Ching, in cui Lao Tzu fa un escursus molto approfondito sul vuoto e ci fa riflettere sul fatto che questo vuoto, che noi normalmente tendiamo a considerare assenza di qualcosa, è in realtà qualche cosa di più che semplice assenza. Lao Tzu fa questo ragionamento, dice che cosa c'è di utile in un vaso se non lo spazio vuoto che racchiude? Qual è quella parte che rende utile una parete? Se non è lo spazio vuoto delle porte, delle finestre che ci permettono di entrare e uscire, di guardare dentro e fuori? Quindi ci sta già mostrando un'idea di vuoto diversa dalla semplice mancanza. È un vuoto che aggiunge, è un vuoto potenziale per ora. E poi nel capitolo 5 Lao Tzu ci racconta che caratteristica fondamentale del Tao, cioè della cosa più importante per i taoisti, è proprio il fatto di essere vuota. Il Tao è vuoto. Il Tao è come un vaso, dice, che anche se lo usi continuamente non trabocca mai. Questa è interessante, teniamocela con questa metafora del vaso che non trabocca. E in altre parti del testo, per esempio il capitolo 3, Lao Tzu ci racconta di come quando il saggio governa il popolo, la cosa fondamentale da fare, le cose fondamentali da fare sono due, vuotare i cuori e riempire le pance. Quando si dice vuotare il cuore, cuore per i taoisti, per la tradizione cinese, il cuore è quella che noi chiamiamo mente, quindi la nostra capacità di astrarre i concetti, ma unita alla nostra emotività. I cinesi non separano emotività e razionalità. Per loro mente è l'unione di entrambe le cose e non è il cervello ma il cuore. Quindi il saggio cosa fa? Vuota i cuori. Perché? Perché il taoista sa che la salute del cuore, la salute mentale diremo noi, passa attraverso la mente vuota. Arriviamo fino nel capitolo 15 in cui Lao Tzu ci dice che gli antichi maestri saggi illuminati erano vuoti come valli. E nel capitolo 16 ci esorta ad arrivare al culmine del vuoto mantenere la quiete e mantenere la stabilità. Quindi come vedete quante volte ritorna all'interno dei testi taoisti questo concetto di importanza del vuoto. Il vuoto è la cosa più importante, la cosa fondamentale. Il vuoto all'esterno permette alla manifestazione di esprimersi liberamente. Il vuoto all'interno è essenziale per una mente sana. Solo che questo concetto per noi è veramente ostico da cogliere perché noi siamo abituati a pensare che soprattutto quando ci rifacciamo al vuoto interiore beh difficilmente andremo a descrivere in maniera gioiosa e positiva un vuoto interiore. Noi normalmente descriviamo come vuoto interiore la mancanza di qualcosa o di qualcuno. Per esempio perdiamo una persona cara sentiamo un vuoto dentro. Ecco quel vuoto non ci viene da descriverlo in maniera positiva. Lo descriviamo sempre in maniera sgradevole, negativa. È una cosa da cui cerchiamo di fuggire il vuoto. Addirittura se volessimo allargare questo concetto siccome noi leggiamo nel vuoto l'assenza di qualcosa allora comuniamo facilmente il vuoto assoluto al concetto di morte cioè l'assenza di ogni cosa e questo quindi ci spaventa e questo quindi non ci fa andare in quella direzione. E anche se la cosa non vi spaventa comunque io ho visto nel tempo tante persone quando cominciano a entrare in questo concetto in questa idea che il vuoto sia importante e che soprattutto il vuoto mentale sia importante e ti dicono ma come si fa a fare il vuoto mentale ma non è possibile, ma io non riesco a fare il vuoto dentro di me. E i taoisti sarebbero molto d'accordo con questo approccio. È impossibile fare il vuoto per come lo intendiamo noi occidentali all'interno della mente. Perché fare il vuoto all'interno della mente significa in qualche modo qualcosa di simile a trattenere il fiato. Noi immaginiamo che io ho una spontanea naturale ciclo del mio respiro, ispirazione, ispirazione, ispirazione di nuovo eccetera e posso intervenire tramite la mia volontà a bloccare questo flusso spontaneo e naturale ma per quanto riesco a farlo? Sì posso stare in apnea per un minuto, per tre minuti, se sono super allenato per sette, otto, proprio i grandi campioni per quindici, diciotto, venti minuti, venti minuti senza respirare? E però poi alla fine della fiera tu il respiro lo devi prendere. E la stessa cosa accade per il vuoto mentale se noi lo intendiamo come assenza di pensiero. Certo che io posso sforzarmi di mantenere un vuoto pneumatico all'interno della mia mente con uno sforzo colossale ma si ci può riuscire? Ma non è questo. Ma questo non ha niente a che fare con l'idea taoista. I taoisti non ti direbbero mai forza. I taoisti ti dicono vai, vai nella direzione del flusso. I taoisti non ti dicono spingiti in quella direzione. I taoisti ti dicono elimina gli ostacoli che ti impediscono di fluire. Quindi pensare alla mente vuota come a uno sforzo in cui io devo mantenere un vuoto all'interno? Beh, poco 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 taoista. Oltre che francamente poco praticabile, diciamo anche se fossimo molto bravi, prima o poi ci distraiamo e ritorniamo all'interno della nostra mente caotica normale. E allora? E allora che cosa vuol dire fare vuoto mentale secondo l'idea taoista? Beh, secondo l'idea taoista fare vuoto mentale non significa nessun pensiero ma significa qualche cosa che è più simile al non trattenere le cose. Abbiamo già fatto l'esempio dello specchio. Lo specchio riflette tutto ciò che è di fronte ma non trattiene niente. Quando qualcosa scompare davanti a lui, semplicemente lo specchio non la riflette più. Ecco, è qualcosa di simile. Se volessimo utilizzare le parole, anche se i taoisti le parole non è che piacciono granché, per spiegare questo concetto dovremmo dire che una mente vuota è una mente in cui le conoscenze pregresse, ciò che è successo prima, non impedisce alla mente di cogliere tutte le informazioni che gli arrivano dai sensi. So che non è che sembri semplicissima come definizione ma facciamo un piccolo esempio e capiamo subito. Se per esempio voi andate a leggere questa frase qui, forse non avrete notato che in questa frase c'è un errore importante. L'errore è che ci sono due per consecutivi, alla fine della prima riga e all'inizio della seconda riga. Ci sono due per. Ecco, è probabile che la tua mente, così come la mia mente la prima volta che ho visto questo giochino, non abbia letto i due per. E di conseguenza non è che decide di non considerarli, non li vede. Ecco, questa mente che ha letto questa parte e che è caduta nell'illusione della doppia parola non è una mente vuota, perché è una mente che si trascina dietro ancora tutte le idee, tutti i concetti, tutti i condizionamenti, tutte le credenze. Noi taoisti direbbero nelle credenze mettici piatti, non portartele dietro. La mente vuota non è una mente in cui non c'è pensiero, la mente vuota, dice Chuanza, è la mente del neonato, è la mente di colui che non ha niente, che non porta con sé niente, che si trova di fronte al mondo senza i suoi preconcetti, senza i suoi pregiudizi, senza le sue credenze. Quella è la mente vuota, non l'assenza di pensiero. Fini della prima parte, inizio della seconda parte Questo è il problema fondamentale della conoscenza per quanto riguarda i taoisti, perché i taoisti dicono attenti che è una conoscenza in cui tu accumuli, accumuli sapere e poi te lo trascini dietro. Beh, ricordati che ogni volta che tu ti trascini dietro una credenza, un pregiudizio, questo determina il fatto che una parte, una porzione del reale che tu hai di fronte e che potresti vedere, non la vedi più. Non vedi più il mondo per com'è, vedi il mondo in funzione di come dovrebbe essere per non contraddire le credenze, i pensieri, i pregiudizi, eccetera, che tu hai già il bias, quello che oggi noi chiamiamo bias. Ecco, i taoisti lo dicevano 2500 anni fa, la mente vuota è una mente che è vuota di quelle robe lì, è vuota di cose che pensa di sapere, è vuota di cose di cui è convinto, è vuota di cose che pensa siano vere. Non esiste una cosa vera se non quella che tu sperimenti nel momento in cui entri in relazione con la realtà. Tutto ciò che tu pensi della realtà è una credenza e più questa credenza è forte, meno ti fa vedere porzioni del mondo. Questa è l'idea fondamentale. La si legge anche all'interno del capitolo 13 del Chuanzo. Il capitolo 13 del Chuanzo ci racconta, come sempre, di una persona comune che fa fare una figuraccia terribile, ha invece un duca che si pensa un grande sapientone. Dice, un giorno il duca Wan di Qi leggeva nella sua sala in alto, mentre sotto la sua sala, in basso, il carraio, il carraio è uno che produce ruote. Il carraio Bian stava costruendo una ruota. A un certo punto il carraio posa il martello e lo scalpello si gira verso il duca e gli chiede, che cos'è che state leggendo? Il duca risponde, le parole dei saggi. Il carraio risponde ancora. I saggi sono ancora vivi? Sono ancora esistenti? Sono morti, rispose il duca. E allora, caro duca, quello che leggete non è altro che la merda di quei santi. Il testo non dice merda, dice feccia. Altri testi dicono sterco. Ci sta, ci sta. Quindi, capite, cosa leggi? Leggo le parole dei santi, ma i santi sono ancora vivi. No, sono morti e allora stai leggendo la merda di quei santi. Il duca rimase un po' sbalordito e rispose, io leggo e non ho bisogno del parere di un carraio per farlo. Tuttavia, ti permetterò di spiegarmi cosa intendevi. Se non ti riesce, sarai messo a morte. Cosa risponde il carraio? Ecco quello che il mestiere del vostro servitore gli ha permesso di osservare. Quindi dice, questa è la mia esperienza. Quando faccio una ruota, se vado ad agio, il lavoro è piacevole, ma non è solido. Se vado veloce, il lavoro è penoso e trasandato. Non devo procedere né lento né veloce. Devo trovare un'andatura giusta che convenga alla mano e corrisponda al cuore. C'è in questa cosa, in questa andatura che io devo scegliere, eccetera, c'è qualcosa che non si può esprimere con le parole. Non ho quindi potuto farlo capire a mio figlio, che non ha potuto essere istruito da me. Per questo a 70 anni lavoro ancora a fabbricare le mie ruote. Quello che gli antichi non hanno potuto trasmettere direttamente è già morto. I libri che leggete non sono altro che la loro merda. Ora non si sa come sia andata a finire la storia, cioè anzi non ce lo racconta, però io spero che si sia salvato in questo modo il carraio, ma la parte essenziale di questa storia è proprio il fatto che il carraio si rende conto, praticando, che ci sono cose che non sono descrivibili con le parole. Ci sono cose che non sono riassumibili in una formula e quindi in qualche modo passabili a un altro. Ma è il tuo modo di entrare in relazione con la ruota a determinare il lavoro finale. È il tuo modo di relazionarti con il legno a produrre una buona o una cattiva ruota. Non è una regola che tu ti trascini dietro. Se fosse una regola l'avrebbe potuta passare al figlio. Se fosse possibile un condizionamento che ci porti a una perfezione del gesto, beh allora sarebbe passabile, allora non sarebbe così difficile per il carraio insegnarlo al proprio figlio. Basta condizionarlo in modo giusto, basta educarlo diremo noi, ed ecco che diventa un bravissimo intagliatore di ruote. Ma non è così. Il carraio si rende conto che quella cosa lì non è praticabile e quindi associa la sua esperienza a quella che sta facendo il duca. Cosa sta facendo il duca? Sta cercando di cogliere tramite le parole di verità degli antichi una verità per lui e per il suo mondo odierno. E qua ci vorrebbe anche da dire, ma aspettate un attimo, però anche i taoisti scrivono i libri, anche i taoisti cercano di portarti la loro verità. Beh però se avete un pochino l'abitudine a leggere i taoisti, scoprite che nei testi taoisti di verità ce n'è poche, se non il continuo ripetersi che non esistono verità assolute, il continuo ribaltamento, il continuo paradosso dicevamo all'inizio. Quindi il tentativo del taoismo è quello di utilizzare sì i concetti, sì in qualche modo i condizionamenti, ma per distruggere i condizionamenti interni, non per promuoverne e produrne di nuovi, per distruggerli. Ed è questo anche il motivo per il quale tante volte, anche su questo canale lo abbiamo ripetuto, i taoisti hanno come loro mantra di riferimento per la loro meditazione, ma anche per la loro vita, dimentica, togli, dimentica, abbandona, lascia, lascia le cose, lascia i fardelli, lascia i condizionamenti, apri la tua mente come se fosse quella di un neonato, apri la tua mente come se tu non avessi nulla che già sai e che ti condiziona. Questo è il luoto taoista, questo è il luoto utile e questo non è una cosa difficile, è un cammino. Oggi ne tolgo uno, domani ne tolgo un altro, dopodomani un altro ancora, poi tra tre giorni se ne aggiungono due, poi tra cinque mi rendo conto di quei due che si sono aggiunti, cerco di toglierli. Togli, togli, togli sempre più, dice Lao Tzu, e arriverai al Tao. Togli, togli sempre più e arriverai a quella spontaneità che è esattamente l'assenza di preconcetto, di pregiudizio, eccetera, che è il modo con cui si muove l'esistenza ed è il modo più sano con cui anche noi dovremmo muovere la nostra mente. Bene, siamo arrivati in fondo anche a questo video. Io spero di avervi un attimo di un chiarito un po' più le idee su questo concetto di vuoto interiore, perché è facile confondersi ed è facile abbandonare le idee suggestive taoiste proprio perché non si capisce questa differenza tra il concetto di vuoto per noi e il concetto di vuoto per i taoisti antichi. Se avete domande, dubbi, preplessità, consigli, scrivetemi pure nei commenti, non posso far altrimenti che ringraziarvi ancora una volta per aver visto questo video e aspettarvi se vorrete. Al prossimo!